Allora, Belchiore dice, Daniele potresti darmi un tuo parere, biblico naturale, su Geremia capitolo 3, riguardo l'adulterio che ha commesso Israele adorando altri dei? Dio ha divorziato dal suo popolo? Allora, innanzitutto nella scrittura c'è scritto che Dio detesta il divorzio, punto primo. Punto secondo è che il divorzio di Dio con Israele non va inteso come il divorzio umano, perché nella maggior parte dei casi quando una persona divorzia è rarissimo che ritorna di nuovo con la moglie. Ma Dio ha un rapporto speciale con Israele. Ora, il divorzio non significa che Dio abbia ripudiato per sempre Israele. È semplicemente un distacco legale tra un marito e una moglie. Nel momento in cui i due coniugi divorziano, si va in tribunale, si mettono delle firme, si parla col giudice e poi l'atto di matrimonio, diciamo, si annulla, si fa quello che si deve fare e quindi due legalmente parlando non sono più uniti. Addirittura ci sono persone, ne conosco anche qualcuna, che hanno divorziato consapevolmente, quindi consensualmente, si vogliono bene alla follia, ma hanno scoperto di non essere più, diciamo, compatibili, da virgolette, hanno deciso di separarsi ma di continuare ad essere amici. Quindi, in un certo senso, si può provare affetto per la persona con cui divorzi. E in questo caso Dio ha provato, ha continuato a provare amore per questa moglie dalla quale ha divorziato. Ma il discorso qual è? Che non è stato Dio a ripudiare Israele, è stato Israele a ripudiare Dio, ovvero una cosa che non è permessa, una cosa secondo la legge letterale. Perché era consuetudine dell'ebreo che doveva essere l'uomo a dover ripudiare la moglie, mentre la moglie doveva stare zitta, o come dicevano, come dicono i siciliani, muta. La donna non aveva voce in capitolo a tale riguardo, doveva essere l'uomo a disfarsi della moglie. Allo stesso modo, doveva essere Dio a disfarsi della moglie Israele. Ma in questo caso, si è andati contro la legge, ovvero quando è la donna a prendere l'iniziativa e a lasciare il marito. La stessa cosa ha fatto Israele. Ha lasciato il marito, e non è stato il marito a lasciare la moglie. Questo è un concetto che va chiarito. Dio non ha voluto mai divorziare dalla sua Israele, ma è stata Israele a volersi separare dal marito. Oltretutto, Dio, c'è un passo della Bibbia meraviglioso, che io adesso non ricordo a memoria il punto esatto, ma è davvero utopica la cosa che dice Dio. Proprio di un amore che io non ho... non si può concepire umanamente parlando. Nel momento in cui una moglie tradisce il marito, è pesante, con mille uomini, così come gli israeliti tradivano Hashem, Dio, con mille divinità straniere, allora ci si aspetterebbe dal marito che la mandasse via, e che la moglie, una volta pentita, dica Caro marito o ex marito, saresti disposta a perdonarmi e a ritornare con me? Questo è quello che ci si aspetta da una moglie adultera, da una moglie ripudiata per giusta causa. Ma avete mai sentito il caso di un uomo che ha detto alla moglie adultera Cara ex moglie adultera, saresti disposta a ritornare con me nonostante tu mi abbia tradito mille volte? Aspettate un attimo, che vuol dire questa cosa qui? Ebbene, questa cosa qui è proprio quello che ha detto Dio, è scritto nell'Antico Testamento. Cara Israele, nonostante mi hai tradito, nonostante mi hai fatto le corna, nonostante hai fornicato con gli altri dèi, nonostante hai fatto questo, questo e quest'altro, nonostante ho subito, saresti disposta a tornare con me e ad amarmi? Questo è l'amore di un vero marito, che non si aspetta tanto il perdono, ovviamente ci sta, è necessario che la moglie chieda perdono al marito. Però qui il marito non si aspetta il perdono dalla moglie, chiede semplicemente a Israele se è disposta a ritornare, nonostante è prostituta. Perché è stata la prostituta, è stata l'adultera, la fornicatrice, a lasciare il marito, non il marito alla fornicatrice. Quindi vediamo che Dio ha avuto il cuore aperto ad avere una moglie anche fornicatrice, da questo punto di vista. E questo è una cosa che anche il profeta Osea ha provato. Un giorno Osea disse a Dio, come stai Dio? E Dio disse, non sto molto bene. E allora Osea disse, ti capisco. E Dio rispose, no, non mi capisci, te lo assicuro. E allora a quel punto Dio dice, se mi vuoi capire, allora spostati quella donna lì, amala con tutto te stesso. Allora Osea sposa questa donna che poi scopre essere una prostituta. E allora lì Osea gli crolla il mondo addosso e diventa triste. Allora poi Dio dice a Osea, Osea, come stai? E Osea dice, non sto molto bene. E Dio gli dice a Osea, e come ti capisco? E allora lì Osea poté capire quello che stava provando Dio. La moglie che tanto amava lo tradiva continuamente. Quindi, sia Osea che Dio erano i traditi perennemente. E solo in questo modo Osea poté capire lo stato d'animo di Dio. Ecco come Dio ama la moglie peccatrice, ma non il suo peccato. Però vuole che non pecca più. Attenzione. Perché Dio, il Messia, vuole una sposa pura e senza macchia, senza ruga e senza difetto. E come può essere che un'adultera diventi improvvisamente senza difetto? Attraverso il perdono dei peccati. Perché quando Dio perdona, non nasconde nella tasca, pronto per infacciare, ma nel momento in cui Dio perdona, dimentica i peccati che ha perdonato. e vede quella persona lì, vede Israele, vede la sua ecclesia, la sua assemblea, pura come una casta vergine, con delle vesti bianche. Ma attenzione, quelle vesti bianche non sono immuni dallo sporcarsi di nuovo, si possono risporcare altri miliardi di volte se questa moglie o fidanzata continua a ricommettere gli stessi errori di prima. Quindi Dio è disposto a perdonare, a mostrare chesed, benevolenza, è disposto a perdonare i continui peccati. Non vuol dire che perdona una volta e ha perdonato per tutte le altre volte. No, non è così. Svegliatevi, cari fratelli. Quindi spero che attraverso questo aneddoto di Osea vi abbia fatto capire che Dio detesta il divorzio, non ha mai avuto lui l'iniziativa di voler divorziare da Israele, ma è stata la sposa ad aver lasciato lo sposo, non il contrario. Caro Melchior e spero di averti risposto.